Allora, la giornata di oggi consisterà nell'andare a fare un giro qui a Kagoshima in bicicletta, fare un paio di riprese qui e lì e passare mezza giornata in compagnia di tutti quanti voi. Solo che prima di partire non esiste che io esca in queste condizioni, c'è da sfoltire questa chioma, foltissima. Dopodiché andremo a preparare la bevanda preferita da tutti gli atleti di qualsiasi sport, che non può non chiamarsi poca di sudore. Una volta pronti ci mettiamo in sella e si pedala. Hai voluto la bicicletta? Pedala. Why Japanese streets are so clean? Clean around the clock. Cleanliness has been etched into Japan's national identity since about the 1800s. I don't think you have any idea how fast I really am. a Grazie a tutti. Oh, che facciamo? Andiamo, vai. Vai, forza, vai. Vai, andiamo, vai. Andiamo. La prima volta che facciamo una spirata a New York da due anni e mezzo, bellissimo, infatti. Dai, forza, 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 forza. Veloci, dai. Allora, il motivo per il quale sono qua è questo marco, o porto, si chiama Marine Port, quindi è un porto. Nessuna nave attracca, però, a parte effettivamente la guardia vostri ai giocatori. Comunque, il motivo per il quale sono qui oggi è per... Allora, guarda, guarda, guarda. Aspetta un'attima. Via, vabbè. Tant'è un'attima. Via, 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 via. Via, 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 via. che vi parla sono venuto in questo multiverso a salvare il pepe del passato ma soprattutto le vostre orecchie da un audio completamente distrutto da venti così forti che Nettuno chi cazzo sei leva di proprio guardate sentite un po comunque vi faccio uno schema riassuntivo ho comprato un iphone l'iphone è costato tanto non ho più scuse riguardo la qualità video e se non pubblico tanti video ho buttato tanti soldi capito la strategia perché io no comunque nella parte finale del video vi informo che si vive tranquillamente senza un rene ci vediamo iscriviti al nostro canale